C'è stata una strabiliante partita qui sul campo di San Francesco tra l'Ella Scunardo e l'altra squadra che in questo momento non ricordo il nome Comunque, le Figaro, ah ecco Verbagna Qui con me sono presenti due giocatrici dell'Ella Scunardo che oggi hanno fatto una partita strabiliante volete dire il risultato finale? Non me lo riparmo assolutamente a 0 7 a 0 Dovrebbe essere 7 a 0 Intanto vi faccio presentare i nostri telespettatori Laura Giannoncelli, Lotto Nicola Strammi, 3 Non è che vorresti fare un piccolo commento sulla partita? Io direi che non ci sono tante cose da dire solo che siamo campionesse d'inverno E un giudizio in positivo per l'avversario che hanno perso? Beh comunque è stata una partita combattuta indubbiamente abbiamo tirato fuori le unghie abbiamo giocato veramente bene e quindi purtroppo non c'era storia però è stata una bella partita le ragazze comunque sono molto sportive e quindi è stato bello giocare Io vi ringrazio e vi ringrazio per la disponibilità Cerchiamo di valorizzare anche il CSI femminile che in questo momento in pochi l'hanno valorizzato anche se è un bel campionato facciamo vedere che ci sono anche le donne che sono più sportive anche per certi versi degli uomini Sì bene, il campo sì Sì insomma E basta, chiediamo Intanto facciamo un saluto per quelli che ci stanno guardando Ciao 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 Buon appetito! Buon appetito!